Mezzanotte e 49 minuti, edizione della notte del telegiornale. In primo piano c'è la crisi greca, dunque l'Eurogruppo si è concluso con un nulla di fatto, non c'è accordo sul debito con Atene e il tempo sta per scadere. Ed è così che il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha convocato un Eurosummit per lunedì prossimo, un vertice straordinario al quale prenderanno parte tutti i capi di Stato e di Governo dei Paesi della zona Euro. Grecia contro creditori uguale nulla di fatto, stallo sempre più costoso, questo è il risponso da Lussemburgo, ora serve un summit d'urgenza con capi di Stato e di Governo, un vertice convocato per lunedì 22, convocato per evitare la catastrofe, catastrofe, questa è la parola usata dal Commissario Moscovici, catastrofe uguale default greco, l'incubo che si ripropone almeno per molti, ma tutto, nonostante tutto, resta com'è. Cosa serve? Per l'Unione e chi rivendica quattrini da Atene mancano vere proposte per risolvere la querela e cresce nel contempo, ma non fra tutti, la paura che a questo punto Atene si possa rivelare pronta ad affrontare il suo stesso fallimento. Per questo serve un livello politico più alto, per questo la riunione d'urgenza, perché la questione ora è rinegoziare il debito greco e questo possono farlo solo i vertici dei paesi coinvolti. Come previsto, scrivevano in serata dall'Eurogruppo, questo è lo stato dell'arte. Le nuove proposte avanzate dalla Grecia in un documento di 5 pagine ieri, anzitutto non sarebbero coerenti con la base negoziale decisa a febbraio scorso. Una bozza definita già flessibile, sia sulle misure richieste ad Atene che sugli obiettivi di bilancio. Insomma, Atene non avrebbe proposto nulla negli ultimi tempi, tantomeno ieri con uno Yannis Varoufakis, ministro delle finanze, definito l'attore di idee vaghe e generiche, mentre i creditori vogliono un piano misurabile, attuabile e credibile. Lo sostiene il Fondo Monetario Internazionale più di tutti. Bisogna tornare a discutere tra adulti, dice Madame Lagarde, e comunque se Atene non paga il default, aggiunge. E' inevitabile. Tutto ciò intanto spaventa sempre più i greci. Già in crisi negli ultimi tre giorni hanno ritirato circa 2 miliardi di euro dalle principali banche del paese, mentre a maggio ad Atene le entrate fiscali sono calate del 25% e le dichiarazioni fiscali hanno segnato un meno 50%. Le parole e la rabbia del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Negli altri paesi certe cose non accadono, ha detto, criticando le troppe armi facili in America. Lo ha detto condannando la strage di afroamericani avvenuta in una chiesa di Charleston, nel sud della Carolina. E' stato arrestato il presunto killer, un ragazzo bianco di 21 anni che, stando alla testimonianza del suo compagno di stanza, progettava questo gesto da sei mesi. Dylan Roof sembra un bambino nella sua foto segnaletica. Questa mattina erano le tre in Italia e è entrato in una chiesa di Charleston. Si è seduto e come se nulla fosse. Ha ascoltato la lettura della Bibbia e il sermone di uno dei leader della comunità afroamericana, il pastore Clementa Pickney. Poi ha cominciato a fare fuoco, uccidendo nove persone e ferendone molte altre. Roof ha ricaricato l'arma con tutta calma per cinque volte. Chi si è salvato lo ha fatto, fingendosi morto. L'obiettivo? La chiesa di African Emanuel è uno dei luoghi simbolo della lotta contro lo schiavismo e negli anni 60 per i diritti civili. Lo stesso Barack Obama lo ricorda nel suo discorso. Il Presidente conosceva personalmente alcune delle persone uccise si era recato in passato non solo a pregare all'African Emanuel ma a prendere parte alle marce organizzate dal reverendo Pickney in uno stato in South Carolina nel quale ancora sono forti formazioni come il Ku Klux Klan e davanti agli edifici pubblici sventola immancabilmente la bandiera suddista. Anche la veglia di questa mattina aveva un significato politico e sociale. Era un incontro di protesta contro la morte di Walter Scott, giovane e nero, disarmato, ucciso da un agente bianco a Charleston lo scorso aprile. Una storia che ricorda molto quella di Michael Brown in Missouri. Nella dinamica del massacro e nella preparazione si ritrovano tutte le incongruenze del sistema di vita americano. Roof nell'ultimo anno aveva avuto diversi guai con la giustizia, problemi di droga eppure il padre per il suo ventunesimo compleanno ha pensato che fosse opportuno regalargli una pistola e non una qualsiasi, una 44 magnum. Un giorno Obama è arrivato a fine mandato per poterlo ammettere davanti all'America. Noi come paese dovremmo fare i conti con il fatto che simili stragi in altre nazioni civili non esistono e chiederci come mai. Papa Francesco ha presentato al mondo la sua enciclica. Laudato sì, un monito contro il degrado ambientale ed umano. I popoli, ha detto Bergoglio, hanno già pagato moltissimo il salvataggio a ogni costo delle banche e non paghino anche quelli della crescita ad ogni costo. Laudato sì è il titolo dell'enciclica di Bergoglio dedicata all'ambiente, la seconda del suo pontificato, la prima nella storia della Chiesa scritta in italiano. Siamo cresciuti credendoci autorizzati a saccheggiare il pianeta, si legge, ma ora serve una conversione ecologica, possibile solo modificando l'economia che non rispetta più l'uomo. La salvaguardia dell'ambiente non può essere disgiunta dalla giustizia verso i poveri, si legge, e dalla soluzione dei problemi strutturali di un'economia che persegue solo il profitto e pensa che possa risolvere ogni problema. E qui ce n'è anche per le banche. Il loro salvataggio, pagato dalla popolazione, senza la decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che potrà solo generare nuove crisi. Avida e irresponsabile, così è stata la crescita per Bergoglio negli ultimi decenni. Ora bisogna pensare a rallentare un po' il passo, accettare che alcune economie decrescano procurando risorse perché si possa crescere in modo sano da altre parti. Gli ecologisti hanno apprezzato soprattutto la condanna del Papa alla stupidità umana per il riscaldamento globale e l'esaurimento delle risorse naturali. Un messaggio che sperano, sproni, le nazioni in vista della conferenza ONU sui cambiamenti climatici di dicembre. La Francesco spiega anche che non si può essere ambientalisti e poi giustificare l'aborto o la manipolazione degli embrioni. Mentre sugli OGM il Papa non ha una posizione preconcetta di rifiuto. I rischi, scrive, non vanno sempre attribuiti alla tecnica stessa, ma alla sua inadeguata o eccessiva applicazione. Immigrazione resta alta la tensione alla frontiera di Ventimiglia secondo la polizia e la Croce Rossa. La Francia starebbe tentando di respingere in territorio italiano anche migranti che non sono mai transitati nel nostro paese e minori che invece per legge andrebbero ospitati dove vengono fermati. La Francia ha intensificato anche i controlli sui treni per allontanare i migranti senza documenti sugli scogli di Ventimiglia. Intanto è iniziato il Ramadan. I 100 migranti accampati da giorni sulle rocce rifiutano adesso cibo ed acqua fino al tramonto nonostante il caldo affoso con la temperatura che sfiora i 40 gradi sono tutti a rischio di disidratazione. A due giorni dalle parole del Premier Matteo Renzi che sono suonate come avviso di sfratto per il Sindaco di Roma è lo stesso Sindaco, Ignazio Marino, a rompere il silenzio facendo sapere che lui vuole restare in sella e lo vuole fare sino al 2023. Si è paragonato anche a Monti quando subentrò dopo la caduta del governo Berlusconi. Dice che non si dimetterà e anzi si ricandiderà alla fine del primo mandato risponde al Premier, segretario Renzi e ripete che vuole continuare a fare pulizia. Il Sindaco di Roma respinge così le pressioni che si stanno concentrando sul Campidoglio ad iniziare dal Presidente del Consiglio che lo ha sfidato. Marino resti solo se riesce a fare le cose che servono a Roma e il primo cittadino dopo una devastante inchiesta giudiziaria che ha colpito il Consiglio Comunale e anche la sua giunta è nel mezzo di una fortissima tensione che scuote il suo partito decide di rompere l'assedio e convoca una conferenza stampa. Così a chi gli domanda se non giudica le critiche del Premier un po' ingenerose risponde ho trovato Roma come Monti trovò il paese dopo Berlusconi non sono il salvatore della patria ripete il Sindaco ma quando sono arrivato era necessario un reset completo ora stiamo riavviando il computer la gente ora vuole pulizia e cambiamento e con gli elettori ci sono anche a sella la lista civica che mi sostiene e il PD. Marino invoca dunque il Partito Democratico eppure la linea del Nazareno sui destini dell'amministrazione Demme in Campidoglio non è stata sempre univoca se Renzi non lo ha mai difeso a corpo morto il Presidente del PD Orfini invece che è anche Commissario Democrat della Capitale lo ha sempre difeso fino ad arrivare a precisare le parole del Premier vanno lette come un incentivo a fare meglio anche il Vice Secretario Guerini ha fatto sempre quadrato su Marino ha più volte ripetuto non c'è nessuna delegittimazione di Renzi o del PD sta di fatto però che l'amministrazione capitolina è ancora in bilico si aspettano infatti le decisioni del Prefetto Gabrielli che dovrà valutare se il Comune è da sciogliere per infiltrazioni mafiose oppure no a Napoli Vincenzo De Luca ha disertato la cerimonia in cui è stato proclamato Governatore della Campania come è noto rischia l'immediata sospensione per effetto della legge Severino domani mattina tra poche ore invece il Senatore del Centrodestra Antonio Azzolini presenterà il ricorso al Tribunale del Riesame di Bari contro l'arresto richiesto dalla Procura di Trani Azzolini coinvolto nel crack della Casa di Cura Divina Provvidenza di Bisceglie oggi si è difeso davanti alla giunta immunità del Senato parlando di fumus persecuzionis della Procura Azzolini ha respinto tutte le accuse dall'Associazione per delinquere alla corruzione sino al concorso in bancarotta dopo due anni e tre mesi di detenzione Fabrizio Corona è stato scarcerato l'ex re dei paparazzi ha lasciato il carcere di opera dopo aver chiesto ed ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali nella comunità Exodus di Dommazzi Fabrizio Corona è uscito dal carcere la decisione del giudice di sorveglianza arriva a sorpresa in tarda mattinata Corona può essere scarcerato ma deve essere affidato ai servizi sociali nella comunità Exodus di Dommazzi all'onate Pozzolo vicino Varese l'ex agente di paparazzi era stato condannato nella somma di diverse sentenze a 13 anni e due mesi pena poi ridotta a 9 anni sconto successivamente annullato dalla Cassazione lo scorso 28 gennaio dunque Corona dovrebbe ancora scontarne 5 di anni almeno finché il giudice del rinvio non ricalcoli la pena dopo il pronunciamento della Cassazione per un cumulo di reati il più pesante dei quali l'estorsione aggravata non gli aveva consentito di chiedere una misura alternativa alla detenzione appena fuori dal cancello un urlo liberatorio racconta il suo avvocato sono felice giuro che in carcere non ci tornerò più e poi un messaggio su Facebook ho attraversato la tempesta ho lottato fino all'ultimo è stata dura ma era necessaria ora si riparte si puede una vicenda giudiziaria durata a lungo che ha diviso l'Italia tra chi considerava quella di Corona una pena spropositata e chi invece no una detenzione che lui stesso aveva definito più volte un calvario l'ultima volta che era apparso davanti ai giudici non era più quel bad boy che conosciamo tutti ma un uomo provato dal regime penitenziario aveva più volte chiesto una pena alternativa perché soffriva di stati d'ansia e attacchi di panico disturbi legati a quella personalità narcisistica e borderline come è scritto nella perizia psichiatrica fornita dalla difesa ed era stato proprio lui a proporre la comunità di recupero di Dommazzi per espiare la sua pena lo scorso dicembre i suoi legali hanno presentato una domanda di grazia parziale all'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di cui si occuperà adesso Sergio Mattarella oggi la novità si tratta fa sapere il legale di un affidamento temporaneo senza alcuno sconto di pena tra qualche mese il tribunale di sorveglianza dovrà valutare se confermare l'affidamento in prova o rimetterlo in carcere calcio mercato e formula 1 nella pagina sportiva Paolo Pellacani si il calcio mercato ma prima ancora il calcio giocato perché l'Italia gli azzurrini l'under 21 agli europei hanno perso sono stati sconfitti per 2-1 dalla Svezia dopo essere passati in vantaggio il calcio mercato tante le trattative ma tutto ruota intorno al grande talento della Juventus Paul Pogba che dovrebbe finire al Barcellona ma non subito tra un anno giocherà un altro anno in bianco nero intanto la Juve pensa a Mandzukic per il dopo Tevez una sessione eccellente con effetto ritardato sarebbe questo il futuro spagnolo di Paul Pogba secondo quanto riporta al mondo deportivo che indirizza il francese a Barcellona i catalani per le restrizioni dell'UEFA legate al fair play non possono operare in questa finestra di mercato e così verrebbe anche se ha udito il desiderio di Pogba che vuole giocare un'altra stagione con la Juventus il Barça avrebbe ottenuto una corsia preferenziale per l'estate 2016 ma prima si dovrebbe arrivare ad un contratto privato tra le parti sulla base di circa 80 milioni per la Juventus il tutto però vincolato alle prossime elezioni per la presidenza degli Azzurgrana in programma a metà luglio nell'immediato la Juve si muove per ridisegnare l'attacco Marotta si è recato a Madrid dove ha raggiunto un accordo di massima con l'atletico per il centravanti Mandzukic un'operazione a 15 milioni più bonus e un contratto di 4 anni per il calciatore più complicata la missione di Galliani a Monte Carlo per Condogbia i monegaschi rispondono a tutti i pretendenti che il centrocampista non si muove per meno di 30 milioni un paio di idee in attacco riguarderebbero Sa ancora impressi dalla Fiorentina e il gioiellino della Dinamo Zagabria Marco Piazza la Roma comincia a definire alcune strategie soprattutto sul versante delle comproprietà per Nainggolan è convinta che il rilancio di 18 milioni convincerà il Cagliari che ne chiede 20 intanto Sabatini ha trovato l'accordo con Bertolacci che dal Genoa torna alla base anche se non ha mai giocato in prima squadra con la Roma ma da Trigori investirebbero anche su un altro genuano Iago Falke per un totale di 15 milioni come centravanti prende quota il colombiano Bacca del Siviglia il presidente dell'Aurentis ritiene troppo costoso sul terzetto dell'Empoli Isai Saponara Valdifiori e vorrebbe regalare solo quest'ultimo a Sarri per il suo Napoli La Formula 1 torna in Europa la Ferrari di Vettel è pronta a sfidare di nuovo le Mercedes in Austria Dopo la parentesi canadese la Formula 1 torna in Europa e lo fa sul circuito di proprietà Red Bull che regala a Sebastian Vettel dolci ricordi proprio qui la scorsa stagione il tedesco quattro volte campione del mondo provò per la prima volta una Ferrari quella oramai pezzo pregiato dal museo che Gerhard Berger pilotò nel lontano 1987 ignaro che di lì a poco la sua carriera di pilota lo avrebbe portato alla corte di Maranello Vettel guarda al Gran Premio di Spielberg con malcelato ottimismo parla di una Ferrari che cerca di essere sempre competitiva per la vittoria forte di una macchina veloce e un pacchetto di aggiornamenti molto efficace ma per sfidare le Mercedes c'è da evitare il seppur minimo errore perché il gap è ancora notevole dopo l'incremento di cavalli riportati in Canada alla Power Unit qua in Austria ci saranno ulteriori novità sull'aspetto aerodinamico a tanta serenità ha fatto da contraltare in conferenza stampa il viso tirato di Nico Rosberg destinato a rincorrere il compagno di scuderia nonché leader del mondiale Lewis Hamilton è incalzato in classifica proprio da Vettel complimenti e pacche sulle spalle invece per Nico Hülkenberg il pilota della Force India fresco vincitore della mitica 24 ore di Le Mans al volante di una Porsche e che molti ora vedono il prossimo anno al fianco del conazionale Vettel sulla Ferrari che verrà bene tutto per lo sport a te Luca allora grazie non ci sono altri aggiornamenti le 1 e 6 minuti chiudiamo questa edizione ricordandovi come sempre il prossimo appuntamento alle 7.30 grazie a tutti buonanotte grazie a tutti